Hi, I'm Riccardo Poli. I accept the ice bucket challenge. I nominate Cinzia Penati, Francesco Caldarola e David Parenzo. I'm not just here to ruin my makeup, so please donate. No, aspetta, aspetta, aspetta! Ehi, cazzo! L'hai fatto vedere la donazione? Sì, cazzo! No, c'aveva in mano un po' la donazione. Scusate, dovevamo fare donazione.